Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi trovo all'userna San Giovanni frazione Airali e questa è la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Scusate se passano le macchine ma siamo vicini alla strada e qua vediamo invece il Tempio Valdese. Adesso stiamo aspettando se suoni la suonata delle 12 della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista 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 San Giovanni Battista